Da due settimane ha riaperto un luogo da sempre caro, i Varesini, come il Lido della Schiranna. Una nuova gestione è subentrata alla guida del bar e ristorante. Ad aggiudicarsi il bando del comune è stata la società Tre Cubi di Gallarate. Il primo impatto è stato positivo. È andato molto bene l'inizio, crediamo tanto in questo luogo, come potete vedere la struttura è fantastica, il lago di Varese merita, quindi ci siamo tuffati in questa nuova avventura. Voi siete una gestione tutta in rosa. Esatto, sì. Siamo una gestione tutta femminile, la società è mia e mia sorella. Oltre alla parte bar, che per l'estate proporrà serate a tema e aperitivi, il Lido della Schiranna vuol dire anche piscina. L'apertura è imminente, è quasi tutto pronto. Stiamo facendo proprio le ultime cose relative alla struttura e non vediamo l'ora di partire. Per quanto riguarda tariffe, pubblicheremo sulla pagina del Lido della Schiranna tutte le tariffe della piscina, che più o meno penso siano le stesse dell'anno scorso. A luglio sul lago di Varese si potrà tornare a fare il bagno. Una novità, quella della balneabilità, che secondo i gestori non andrà a penalizzare la piscina, ma anzi porterà più movimento. Sì, diciamo che siamo subentrate con una novità quest'anno e sicuramente porterà molta più gente a visitare il lago e speriamo anche molta più gente qui al Lido. Quindi il bagno nel lago non esclude il bagno in piscina. Esatto, esatto. Si possono fare tutte e due.